Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anima e corpo a Lady Isabel Per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crudeltà Ma ormai è giunto il momento, chi vincerà l'armatura d'oro? Sarà scontri sovramani, duelli decisivi, che decideranno chi l'armatura indosserà E' un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte d'ora infine, fra tutti trionferà Chi sarà mai? 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 Sono i cavalieri dell'Otodiaco, hanno nomi importanti Sono i cavalieri dell'Otodiaco, hanno nomi importanti Sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere Ma solo uno alla fine potrà trionfare Ma solo uno alla fine potrà trionfare Grazie a tutti Grazie.